La prima cosa è per avvertire che sabato e domenica ci sarà un disagio, vi creeremo un disagio perché bloccheremo il sottopasso di via Nazario Sauro, perché lo blocchiamo? Perché sono iniziati i lavori oggi di demolizione dell'ex casellino, questo è qualcosa di straordinario, sono molto contento e è un altro impegno che ci eravamo presi e che stiamo mantenendo. Verrà demolito il casellino che non è più utilizzato, che è in una situazione di degrado, fra l'altro è anche brutto da vedersi, qui si creerà tutto uno spazio per poi realizzare il sottopasso pedonale ciclabile e questo rientra in questo progetto di grande riqualificazione della Darsena Borghese, che abbiamo già fatto col primo stralcio, proseguirà con la demolizione, il sottopasso e la ripavimentazione fino arrivando al faro, che si unisce ovviamente alle altre cose che sono già in programma, come l'ex asilo Manfrini che verrà riqualificato nel 2024, dove abbiamo già il progetto e già stanziato 2 milioni di risorse, abbiamo proprio ieri inaugurato anche il Google, però questa cosa è veramente importante perché andiamo a chiudere un percorso di riqualificazione di questa area molto bella, ma soprattutto lasciatemelo dire, dopo questa realizzazione partendo dalla piazza, passeggiando per il corso, si arriva ad Arsena e si arriva fino al porto in sicurezza e soprattutto anche vivendo delle emozioni con questa riqualificazione complessiva. Quindi lo ricordo, sabato e domenica il sottopasso di via Nazario Sauro sarà chiuso per consentire gli interventi più invasivi di demolizione dell'ex Casellino.